Sometimes love is I'm super Alabama ha nemici speciali Quindi possono essere i medici Glocker, Bulldozer, i shield E così via, mi sono già portato avanti Perché ne ho fatte 77 e me ne mancano solo 15 Sennò veniva fuori un video infinito È un video speciale perché Finalmente lo platino Poi ogni volta che esce un ice nuovo, un aggiornamento Mettono altre acime e sono sempre All'inseguimento, poi io non ho neanche tanto tempo E non riesco mai, non sono mai riuscito A platinarlo, questa volta ragazzi Ce l'ho fatta con questo video Quindi vi chiedo il massimo supporto Un bel pollice in su, fatemi sapere Anche voi nei commenti se qualcuno Di voi ha platinato, se vi manca Qualcosa, quale riuscite a fare o no E così via ragazzi, ci becchiamo Dopo la sigla Dopo la sigla Dentro la heist, bella regà Risorse Oggi è domenica quando sto registrando Non so se lo faccio uscire lunedì o martedì Il video Quindi in ogni caso buona settimana Tutti per la scuola Io ho poco tempo perché ovviamente sono finite le feste e le fere di Natale Il lavoro mi porta via tanto tempo La famiglia e tutto Però oggi non potevo Che non fare questo video ragazzi Idee per altri video? Ve lo dico subito Devo portare il segreto Primo perché me l'avete chiesto in tanti Ma poi perché devo farlo E quello sarà veramente il video finale Della serie La fine di PD2 Che è l'ultima che ho fatto Ma mica dovevo far fuori Gli speciali Non farmi far fuori io Vediamo, vediamo come funziona Vai andiamo di me lì E primo fatto Vediamo ragazzi 78 Easy Easy raga Se mi chiedete come faccio a shottare Raga c'ho la build apposta E la rotta La classica build che vi ho già fatto vedere anche nei Nelle skill Infatti qua non ho Ok possiamo Aspetta il taser Perché se no lui mi taserai non riesco Prendiamo gli scudi Proviamo Yes 79 80 Madonna quanti sono 81 Vediamo Sì 81 raga ne mancano 11 Sta venendo una figata Sta venendo una figata È una figata raga Bulldozer Quello magari no Ok Prendiamo il taser Eh sì Vabbè la porta si doveva mettere Ok preso Ho la build apposta Ragazzi Ho i critici a manetta Soprattutto i melee Gli attacchi melee Diventano devastanti Quindi è chiaro Che mi sono reso la vita più facile Ok lui è fuori Ma a noi non ce ne frega Di fare la missione In realtà a noi ci interessa Solo fare le kill Siamo 82 Ne mancano 10 Aspettiamo Il momento più opportuno C'abbiamo l'outlocker Magari anche il clocker Direi di no Però il medico Sì ovviamente Gli shield Sì Ok Accogliamo il pacchetto E siamo ad 86 Ad 86 raga Calma calma Ok taser Yes 87 Qua non abbiamo nemici speciali Eccolo qua un medico Morto Ma no Raga no Voi non potete capire Cioè alla fine Ma quanti anni è che Che giovane Ovviamente poi ho fatto Delle pause lunghissime Come potete Avere Comunque immaginare Non riesco a parlare Raga Ok Il clocker Il clocker Ha una soddisfazione enorme Medico Yes 90 raga Siamo solo a 2 kill Da platinare Per i dei due Cioè provate un attimo A immedesivarvi Vabbè Oggi raga Ascolta è mattina Ho poco tempo per registrare Non riesco a parlare Cioè sono dislessico Ok 91 raga Vi giuro 91 91 su 92 Raga andiamo a prenderci L'ultimo L'ultima sfida Dell'ultimo accidente Che ce la prenderemo E ce la prenderemo Raga mi son fatto Un bulldozer Come ultima Kill Ultima sfida Ragazzi Cioè vi giuro Ho platinato Ho platinato Per i dei due Sono contentissimo Voi non potete capire Quanto sono contento Io adesso interrompo Assolutamente Tutto La heist Voglio andare a vedere Che ho completato Tutti gli achievement Incredibile Per un pelo Ragazzi Tutti gli achievement Sono stati completati Vi devo far vedere Anche che però Io ho fatto il segreto Vedete Completa il segreto Di pd2 La fine L'ho fatto Come acimente tutto Ma non l'ho registrato Quindi appena riesco A organizzarmi Un attimo Lo farò Ragazzi Un'emozione fantastica Ho platinato Pd2 Finalmente Vi ringrazio Ragazzi Fatemi sapere Qua sotto Appunto Nei commenti Se vi è piaciuto Il video Non la La heist Era tranquilli Oggi Se riesco Organizzo E registro Appunto il segreto Qualcosa del genere Vi annuncio anche Che ho comprato Dragon Ball Z Kakarot Perché ha Segnato la mia Adolescenza Quando ancora andavo Alle medie Io arrivavo a casa E dovevo guardarmi Dragon Ball Me lo sono guardato tutto Me lo sto riguardando Un'altra volta Perché sono passati Parecchi anni Da quando non lo vedo più E molte cose Me le sono dimenticate Giocherò al videogioco Magari porterò anche Qualche video Perché sapete che io Registro quando Una cosa mi piace E mi diverto E non forzata Perciò ragazzi Io a questo punto Non vi titolo Poi penso che per questo episodio Possa bastare Dal random Dal random Dal random E Payday 2 Platinato Finalmente È tutto Enjoy ragazzi E E...